ciao a tutti e ciao a tutti a tutti e siamo di nuovo con un nuovo video sempre lei compare la giulia janis che sembra la solita postazione degli ultimi video esatto altro video tag e sarà il liste in gramme tag allora quindi iniziamo subito da quanto tempo sei scritta su instagram bella domanda dal sera del mio compleanno dei 20 mi sembra si dell'anno scorso io avevo prima di questa avevo un altro profilo che vabbè avevo cambiato cellulare quindi un casino però è tipo dal metà c'è tipo marzo 2012 una roba del genere no 2013 si di marzo 2013 prima foto che hai pubblicato allora la prima foto che ho pubblicato in pratica era una prova e avevo meno fatta la permanente questa cosa con scena vai spesso su instagram con che frequenza ogni giorno ogni mattina che mi sveglio subito instagram la domanda più migliore sarebbe cioè non vai su instagram perché praticamente ci sono sempre si è una droga esatto e quindi vado praticamente ogni volta che ho un po' di tempo lì ogni mezz'ora ogni quarto d'ora tipo per vedere se sono un po' tono si allora sapere che hai messo allora bella domanda allora sicuramente tra le prime ho questa qui che appunto era fra le prime non so perché l'ho vista perché ha proprio una faccia uscena e qui la mia invece durante gli esami appunto che è una cosa orribile è una foto con più successo semplice e credetemi è quella che ha di più ed è del compleanno compleanno di gregor e ha 81 like avevo questo qua del disegno di craft book che è vero in pratica avevo taggato mickey ibo che lui l'ha ripostato nel suo profilo quindi quanti di follower sai e quanta gente segui allora seguaci ne ho 373 ed i seguiti 1463 io seguaci ne ho 424 seguaci e i seguiti ne ho 1023 quindi ti ho superato ecco che è l'ultima persona che ho emesso mi piace allora ti fa parte del gruppo del ski jumping family che saluto allò no x bad angel che è proprio una ragazza polacca strano ti cita una persona famosa che segui o una marca è una persona praticamente sono tutte famose a quella che segui o una famosa appunto è piernini che è un attore francese che mi piace molto che si è molto mioccone e si decisamente posso dire marceliere scelta capo se ho tipo zara km forever 21 quelle robe lì allora mostra tre foto che preferisci questo doppio selfie che ho fatto con chetti di antro da soldi prendo il corones che mi piaceva la visuale che lo fa con sofia vescardi ah i tatubo quest'anno nonostante mi fossi appena svegliata ero venuta abbastanza decente trucco capelli e la camicia si avevo la mia migliore amica mi aveva pensato un vestito per una festa l'ultima foto del tuo profilo l'ultima foto che io ho messo visto che siamo già nel mio è questa qui che l'ho messa ieri con questa ragazzuola l'ultima foto del mio profilo c'è appunto questa qui che l'ho messa diciamo oggi a pranzo che è su da plan di corone scusi del paesaggio il video è terminato spero vi sia piaciuto un bel thumbs up come sempre e siete... chiunque veda questo video comunque è libero di fare queste domande di fare questo tag e quindi ci vediamo al prossimo video ciao ciao